pronto? ciao maria sono gianna e ciao come stai? bene e tu? bene ma da quanto tempo? eh sì hai ragione senti ho una notizia importante cioè non lavoro più in farmacia davvero e dove lavori adesso? in un'agenzia di viaggi ah che bello sei contenta? sì molto i colleghi sono simpatici il direttore è gentile carino e l'orario? l'orario d'ufficio l'agenzia apre alle nove e chiude alle cinque e a casa a che ora arrivi? sono fortunata quando finisco di lavorare prendo il metro e dopo venti minuti sono a casa brava gianna sono contenta per te